Le segnalazioni di voi telespettatori di Rossini TV accendono nuovamente e purtroppo dobbiamo dire le nostre telecamere su un altro caso di ingiustificato abbandono di rifiuti. Oggi ci troviamo in strada del Monte Feltro a fianco ad una zona prettamente industriale dove corre un fossato a fianco alla strada e alla stessa area industriale, fossato che viene indiscriminatamente utilizzato come una vera e propria discarica. Rifiuti di ogni genere, tantissima plastica, pezzi di polistirolo, legname, pneumatici, tantissime mascherine, avanzi che mostrano tracce di bivacchi qui a due passi dai parcheggi e il tutto si ripete per decine e decine di metri lungo questo fossato che come detto corre parallelo alla strada e ai parcheggi delle aree industriali. Oggi giovedì 22 aprile è tra l'altro la giornata mondiale della terra, una giornata dedicata al rispetto per l'ambiente e proprio in questo contesto è quanto mai appropriato condannare con forza questi comportamenti incivili. Grazie. Grazie.